Ciao amici, benvenuti. Vi siete un po' impi e gritti dopo le vacanze? Sono qui per darvi una bella badaboom insieme a Engie, il nostro fornitore di energia 100% green. Per te che ci tieni ho un esercizio fantastico per perdere peso in questo inverno, cambiare caldaio. Sai quanto pesa la tua vecchia caldaio sull'ambiente? Tantissimi chili di CO2. Cambiala ora con l'offerta caldaia pesa zero di Engie. Così avrai una nuova caldaia che pesa meno sull'ambiente e sul tuo portafoglio. E poi con lei ridurrai i consumi fino al 25%, l'emissione nociva fino al 50% e rispetto a una caldaia tradizionale. Penso che bella sarà essere più leggero per il pianeta. Tutti dovrebbero farlo. Cindy, act with Engie. Pesare meno sull'ambiente e sul tuo conto è facile con la nostra offerta caldaia. Let's go! Con caldaia pesa zero acquisti la tua nuova caldaia con 65% di sconto. In più, se attivi l'offerta Engie Lucia Gas, ti verrà restituita il 35% che hai pagato. Praticamente, è come se non la pagassi. Cosa aspetti? Magari stai andando a vivere nella casetta nuova, o stai ristrutturando la catepecchia del nonno, oppure semplicemente stai pensando a cambiare caldaia. Con il 65% di sconto sarà impossibile non farlo. Follow me! Con caldaia pesa zero, questa caldaia che costa 2.199 euro, tu la paghi solo 770, inclusa l'installazione. Che poi, se attivi luce a gas con Engie, ti vengono rimborsati. Crazy! Cindy, hai calcolato? Fai vedere quanto viene. Pazzesco! Sembrava fare anche i conti oltre alla ginnastica. E tu? Cosa fai ancora lì? Act with Engie. Chiama 800-844-022 o vai su casa.engie.it. Go, go, go! Hai tempo fino al 31 dicembre e chiamati tutti perché più siamo, meno pesiamo.